Valerio Scano presto sposo. Il cantante ha chiesto al compagno Luigi di diventare suo marito. Una romantica e inaspettata proposta di matrimonio con cui il vincitore di Sanremo ha dichiarato per la prima volta ufficialmente di essere omosessuale. Come mostra il video condiviso su Instagram dal migliore amico della coppia, Valerio Scano si è inginocchiato davanti al fidanzato e con un anello in mano, come vuole la tradizione, ha chiesto a Luigi di sposarlo. Mi vuoi sposare? Ha detto l'ex protagonista di Amici davanti a un gruppetto di amici presenti nella stanza, pronti a immortalare il romantico momento. Un gesto che ha decisamente colto di sorpresa il fidanzato, rimasto a bocca aperta per l'occasione, ma che ha subito detto sì. Poi un abbraccio a suggellare il tutto, tra gli applausi dei presenti e una canzone di Ero Stramazzotti in sottofondo. Di fatto, questo momento è anche il coming out di Scano. Per la prima volta, infatti, ha pubblicamente annunciato di essere omosessuale, dopo aver mantenuto per anni una certa riservatezza sulla sua vita sentimentale.